Buonasera a tutti, sono Francesca Ponziano, volontaria del Centro Studi Futura con il progetto Franco Basaglia con sede a Foggia. Insieme ai miei colleghi Alessandro Amoroso, Massimiliano Di Bitetto e Vincenzo Lagatta abbiamo realizzato un articolo di giornale secondo l'ordine di servizio numero 5 del 16 novembre 2020 inerente al nostro progetto Franco Basaglia che si occupa di formire informazioni e assistenza in materia sociale, sanitaria, previdenziale e fiscale. Vediamo l'anteprima della notizia. Oggi vi parleremo dell'assegno unico Famiglia 2021. Approvato con il documento economico e finanziario 2020, l'assegno destinato alle famiglie sarà un importo mensile variabile al fine di aiutare a crescere i propri figli. E dopo quest'anteprima della notizia vi forniamo delle schede riassuntive per capire in che cosa consisterà questo assegno. L'assegno unico e universale per i figli consiste in un contributo mensile per tutti i 12 mesi rivolto a tutte le famiglie con uno o più figli che, se approvato dal Parlamento, partirà dal 1 luglio 2021 con lo scopo di aiutare le famiglie e favorire la natalità. A chi è destinato i cittadini italiani dell'Unione Europea, extracomunitari con permesso di soggiorno ai residenti da almeno due anni in Italia, ma soprattutto per le mamme dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni compiuti del figlio. Nello specifico l'importo per ogni figlio sarà fino a 200 euro al mese, l'importo medio per famiglia, circa 2.911 euro all'anno. Inoltre si terrà conto dell'indicatore della situazione economica equivalente della famiglia e potrà essere coordinato con altri bonus come il bonus bebè. Se volete leggere il nostro articolo per intero, oppure usufruire del nostro sportello informativo telematico, oppure aderire alla nostra banca dati, vi rimando alla nostra pagina Facebook Centro Studi Futura Foggia Franco Basaglia e alla pagina Instagram ad essa collegata. Vi invito a visitare inoltre la pagina Facebook Futura Centro Studi, centro specializzato nella formazione, ne è un esempio la piattaforma e-learning Skilled che offre corsi di formazione a distanza. Inoltre, essendo un centro di studi politici, economici e sociali, è volto a risolvere problematiche sul nostro territorio e realizza progetti per il servizio civile. A proposito di ciò, invito i giovani in ascolto a cercare informazioni sul servizio civile universale, poiché è un'esperienza di crescita e di formazione, sia personale che professionale. Vi ringrazio per l'attenzione. Un saluto dal Centro Studi Futura di Foggia.